Vorremmo girare il meridione nelle scuole per portare tre problematiche molto serie. Bullismo, quindi pomino, Saverio con il suo mondo della natura, dell'agricoltura e io per quanto riguarda la violenza sugli animali, gli abbandono e il frattacismo. Vorrei un applauso da parte vostra, se possibile, perché noi abbiamo bisogno di noi. Se abbiamo la vostra forza, noi andiamo avanti. Perché i social sono anche questo e Pomino con il suo bullismo, Saverio con il suo mondo dell'agricoltura e io cercando di salvare qualche animaletto pensiamo che manderemo un messaggio sano anche al nord Italia che talvolta parla male del meridione ma così male. Grazie a tutti.